Ciao bimbi, con una magia siete arrivati nella mia cucina. Sapete perché? Perché voglio fare un gioco, un esperimento insieme a voi. Lo so che in questi giorni tutti tutti ci stanno dicendo di lavare tantissimo le mani e di usare sempre il sapone. Perché c'è questo virus un po' cattivello che si appiccica. Io voglio farvi vedere perché è importante usare il sapone. Per fare questo gioco dobbiamo avere quattro cose. Un contenitore con un goccino di acqua, del pepe e del sapone. Siete pronti? Andate a prendere le cose perché stiamo per iniziare. Forza! Eccoci qui. Ho messo nel piatto un goccino di acqua, guarda. Quest'acqua adesso è bella pulita e limpida, ma per il nostro esperimento serve sporcarla un po'. Ed ecco qui che mettiamo il pepe. Facciamo finta che tutti i granelli che sto rompendo di pepe che cadono nell'acqua siano tutta la sporcizia, i batteri che si appiccicano alle nostre mani e anche i virus purtroppo. Adesso l'acqua è diventata veramente veramente sporca e allora meglio dare una pulità. Prendiamo un goccino di sapone, appoggio il mio dito piano sull'acqua e guarda cosa succede. Tutta la sporcizia scappa via. Avete visto quanto è forte e potente il sapone? Ed ecco perché noi dobbiamo sempre ricordarci di lavare le mani molto bene col sapone. Allora bimbi, io vi saluto, grazie di essere venuti un po' nella mia cucina a giocare con me e a fare questo esperimento. Ricordatevi, mi raccomando, di lavare spesso le mani e di usare sempre sempre il sapone. Così le nostre mani sono belle pulite. E con le mani belle pulite vi mando mille 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 baci. Ciao!